Sì, buonasera mister, Alfonso Sciascia di Cartacanta. Le faccio una domanda su un singolo, su Carlos Augusto, un'opinione sulla prestazione. Lui ha nelle sue corde il gol e l'assist. L'anno scorso in Serie B veniva definito un po' il Teo Hernandez della categoria. Volevo sentire la sua, grazie. Per me Carlos Augusto è uno di quelli che mi ha sorpreso più di tutti, ma per fisicità, per velocità, per forza, per tecnica, per applicazione. Per me è un giocatore che arriverà a giocare in una grandissima squadra di livello molto molto alto. Mi auguro che lo diventerà proprio il Monza e quindi resterà con noi a lungo. Però è un giocatore di qualità straordinaria. Lui potrebbe giocare per me già oggi in un grande club, perché ha le qualità, ripeto, fisiche, tecniche, di velocità, di esplosità, ha tutto. E poi un ragazzo applicato, è un giovane, secondo me avrà un grande futuro davanti.